Ciao storieders, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo Chine Howly Shane Innanzitutto per prima di iniziare questo video Volevo scusarmi per la mia assenza, vi giuro che non lo sto facendo apposta E anche vi faccio vedere le mie unghiette, dato che in un sacco mi girate quando è che ritornerei a fare le unghiette Che le ho fatte E comunque partendo dal fatto della mia assenza, raga sto male Cioè proprio sto male, sto morendo, vi giuro Vabbè sono molto così alta, però vi giuro che sono stata veramente veramente un sacco male Però mi siete mancate un sacco e devo sicuramente tornare a essere più attiva Perché mi mancate un calino solo che sono tipo a letto tutto il giorno Cioè mi alzo soltanto per sistemare la selenia per andare all'asilo, per andare a riprenderla, per fargli i pasti Perché se no vi giuro che ho un sacco di dolori Non sto bene fisicamente in questo periodo Quindi è per questo, ho provato anche a fare dei video in realtà Cioè li ho, adesso vediamo se sono abbastanza carini da metterli Però non mi fanno impazzire perché appunto si vede che io non sto molto bene Cioè proprio non è una cosa che sono triste Sono proprio, non sto bene fisicamente in questo periodo Quindi vi chiedo davvero un sacco scusa Mi è arrivato un pacco e non potevo non farvelo vedere Ok, iniziamo subito Il pacco è questo qua C'è una zona svilse, finita già E dovete assolutamente vedere le cose che ho scelto Soprattutto un cappotto Raga mi sono innamorata Innamorata persa No, anche nel secondo Iniziamo Partiamo con il primo pacco che è questo qua Ed è uno dei più grandi Ed è appunto uno di quei cappotti di cui mi stavo dicendo Vi giuro lo sto usando praticamente sempre Infatti avevo avuto una svilse prima Ma non è una spazzesina perché lo sto usando tutti i giorni Perché è super caldo È super 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 caldo E da un prezzo Comunque vi lascio tutto in descrizione come sempre E vi lascio anche il codice sconto Che punto è questo? Siede, vi giuro, caldissimo Solo che c'è la modalità ritratta Non so se riesci a farlo vedere Ma devo togliere Solo che mi piace troppo Mi giuro ho preso il telefono da solo per questa Nuova funzionalità Questa è una S? O una M? Questa è una M Perché appunto lo volevo già un pochino più largo L'altra volta avevo preso sempre un cappottino Molto molto carino In bellutina Non so se ve lo ricordate Però appunto quella era corta Questo qua invece è lungo Mi copre tutta la pancia E dai È per una volta in cui appunto Ci vogliamo coprire E non pensare solanto alla bella test per noi Altro pacco è questo qui Questo invece ancora non l'ho provato Però mi piaceva un sacco Perché mi sembravano quei tipo di felpe Che mettono anche su Fashion Nova Solo che su Fashion Nova Questa felpina qua E questa qui Ed ha anche il cappuccio E i laccetti ai lati Tutti e due Questo ho preso una S Mi sembra Sì ho preso la S La più amissima L'altro pacco è questo qua Che non mi ricordo come che sia No Andiamo a vedere insieme Allora la felpa è questa qui Ed è così anche questa Con il cappuccio Quella via da parte dietro Davanti è così normale Vediamo se è comoda Ecco l'ha aperta questa qua Ed è davvero molto semplice Mi ricordo che l'ho presa Perché ce n'era una uguale Così per la Selena Quello che non so Se mi è già arrivato Oppure mi devo ancora arrivare Però il motivo per cui l'ho presa È perché appunto Era uguale a quello Della taglia della Selena Poi mi raccomando Voi come sempre Fatemi sapere qual è il capo Che vi è piaciuto di più E quali sono i tipi di vestiti Che volete Vi faccio vedere nel prossimo Trying Hour Questa felpa L'ho già messa un sacco di volte Sicuramente Vi avrete visto nelle stories O comunque anche Anche nel video di Halloween Mi sembra Perché vi giuro È caldissima È stupenda La amo Anche di colori belli Mi piace proprio tantissimo È super caldo È stupendo Mi sono innamorata Di questa felpa È così È dentro È anche caldissimo Altro tocco È questo qua Che è una felpina Mi sa che non copre la pancia Questa Te la faccio No Non copre la pancia Ed è così Mi sembra Ma anche questo È una di quelle Che ho visto Su Fashion Nova Sulla Che appunto Differenza di Fashion Nova Su 5 Sono molto di meno Anche questo qua Vi giuro È bellissimo 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 È soprattutto È tutto caldissimo Anche lui È uno Tra i miei preferiti Perché Dai Si vede Che è super 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 Caldotto Fuori Ha questo Ma che la Rica così E dentro È super Bombato Vabbè Che con Il marrone Sotto Magari Non ci sta Molto Però Si trovi Che tipo Bellissimo Ed è caldo Sia la cerniera Che questi qua Altro pacco 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 Questo è Una Caldina 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 Mia mamma È innamorata di questa qua È proprio calduccia Calduccia Maniche lunghe E copropancia Sono ufficialmente Divenuta Una piubra Però è bella Ed è molto calduccia Tira il caldo Poi ho preso Questo Che sono sicura Lo amerete Forse Forse sì È un pochino Estivo Però dai Anche di inverno Di guarda Farserata Discoteca Questa Le chiuso Ecco Queste sono le cose Che io Trovo Sia Wow Però eleganti Ed è così L'ho preso In due colori Questo E questo Io vi faccio Vedere Sotto Uno Questo Ok È bellissimo Però Non guardate I pantaloncini Che ho addosso Perché sono quelli Che uso Per stare In casa Ultimo pacco Ma non meno importante È questo Qua Lo amo Lo amo È una maglietta A maniche lunghe La pancia Si vede Mi sembra di sì Ed è È semplice In realtà È semplice Solo che ha Questi Tiri 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 Ve lo mostro Da indossato Perché quasi Forse non si Che lo scende Mi sono confusa Comunque È così Con le spalle Che si vedono E Mi sono confusa Nel fatto che Non si vede la pancia E niente amore Io come sempre Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Vi mando un bacione Vi auguro Una bellissima giornata Vi ricordo Che il mio Conce sconto È questo qua La selezione Che si è sbagliata adesso Che stava facendo La sua pisolina Pomeridiana 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 Quello E poi Vi prometto Che adesso Cercherò di Riprendermi Il più presto possibile Perché non ce la faccio È tristissima Non pubblicare niente Vi giuro che Mancate un sacco Solo che Adesso sto anche Prendendo qualcosa Per poter stare meglio Vi giuro che Sono stata veramente male Tanto lo sapete Che io ci tengo tantissimo A fare i video E in generale A vloggare Anche Se facevo Qualsiasi cavolata Ve la facevo Sempre vedere Per tenere di compagnia Ma vi giuro che in questo periodo Proprio sono stata Morta Cioè vi giuro che Sono morta Che cammina Non faccio altro Che stare nel letto A parte giusto per fare Quelle cose che vi ho detto Non so se sta prendendo bene Vi ringrazio ancora E sono sicura Che capirete Ma come ho detto prima Cercherò di mettermi in moto Appunto Perché Dovrei stare meglio In questo periodo E vi mando un bacione Vi auguro una bellissima giornata E ci vediamo al prossimo video Mua